Sì Allora, ciao ragazzi Io sono la cittina di Amica Oggi vi farò vedere quanto sono brava in ginnastica Forse sono una testa, sono una cretina Ecco, a far ginnastica Ma vi farò comunque vedere Allora, seguite il nostro canale E comunque dopo... Iscrivetevi Qua io sono qui dietro Ciao Allora, pronti ragazzi? Allora, vi farò vedere Cioè, facciamo una trave Di ciao Elia Ciao Elia Ora, vediamo se andava a cantare una canzone Allora, i ragazzi mi hanno scritto e mi hanno detto Canta la tua canzone preferita Ok, questa è C'è anche un colpo di sol Buonasera Buonasera, oggi cucineremo Arianna E' pazza Ciao Io sono Arianna Io faccio una modificazione le voci Ok raga Fai